A Giulia Nova il campobasso batte 4 a 2 il San Nicolò, affermazione figlia di una prova grintosa e a dir poco straordinaria sotto il profilo della generosità. Foglia Manzillo non dispone di ben tre titolari squalificati, cioè Varsi, Benvenga e Capozzi, così spazio alla difesa tutta senior e ad un centrocampo in cui parte dal primo minuto amabile. Menzione speciale per Del Duca, doppietta pesantissima la sua. Si gioca di fronte a circa 200 spettatori, una quarantina da campobasso. Al quarto il San Nicolò vuole un penalty per una spinta forse eccessiva di Del Prete a Giampaolo. Il pistoiese Baronti, ben piazzato, lascia proseguire. Il campobasso passa al decimo, punizione defilata di Gerardi. Il pallone passa in mezzo alla barriera e trova poi il tacco pregevole di Del Duca che mette tutti fuori causa, compreso il portiere Cannella. Secondo gol consecutivo in trasferta per il difensore rosso-bru, campobasso avanti e protagonista di un ottimo avvio di gara. Qui siamo al diciottesimo Del Prete, trova un varco interessante e poi la conclusione è abbastanza imprecisa. Si scuote la squadra di casa al ventiduesimo, Bontà mette in mezzo a lontana del Duca sui piedi di Liguori che cade dopo un intervento ai suoi danni di Danucci. L'arbitro fa capire a chiari gesti che si può giocare. Il lupo è davvero in fiducia e potrebbe anche bissare il vantaggio al trentunesimo taglio di Strianese per Del Prete che entra prepotentemente in area di rigore ed ha forse il difetto di non avvedersi di un rimpallo a lui favorevole. Finale di primo tempo ricco di cose da vedere come il tiro di Augustus a lato datato, 35 minuti, mentre un minuto più tardi il destro di Bontà è parato da Landi. I lupi chiedono a gran voce un calcio di rigore al trentasettesimo per questo intervento rude di Ndiaie su Gerardi in area di rigore. Tutto nella norma per l'arbitro Pistoiese. Il San Nicolò serra le fila, obiettivo il pareggio al quarantacinquesimo punizione di Petronio, testa scoordinata di Bagaglini a pochi passi da Landi. Comandati due minuti di recupero, episodio chiave al quarantaseiesimo e trenta secondi, fallo di Danucci su Liguori. Il signor Baronti annuncia ai presenti in campo che decreterà la fine del primo tempo dopo la battuta del penalty. Dal dischetto Landi para il tiro a Liguori ma si continua con il tapini in rete dello stesso Liguori. Da qui le vivaci e fondate proteste anche di Foglia Manzillo e dei giocatori rosso-blu che volevano la chiusura delle ostilità. Con le immagini andiamo nella ripresa. Inizia meglio il San Nicolò all'ottavo e Moretti che viene murato da Landi prima sul tiro a seguire anche su un colpo di testa. Intorno al ventiduesimo situazione capovolta per i locali, batte Petronio, Torre di De Santis e gol di piatto dell'ex di turno. Bontà San Nicolò avanti ma la vera svolta la dà al venticinquesimo Foglia Manzillo con un doppio cambio. In campo Salim Ribeiro e Marzano al posto di Bolzan e Gerardi. La squadra passa così al 4-3-3 e realizza ben tre gol in dieci minuti. Il primo, quello del pareggio, è al ventisettesimo quando Mozzoni sgambetta chiaramente Balistreri pronto al tiro dal dischetto. È lo stesso attaccante rosso-blu che pareggia i conti con estrema freddezza. La solo Campobassano non si arresta qui al 32esimo. Bagaglini svirgolando un pallone regala un angolo agli avversari. Batte Ribeiro, corregge di forza del Duca. È l'incredibile vantaggio Campobassano e doppietta del difensore, diventato così goleador. È un Campobasso strepitoso e che non vuole accontentarsi al 39esimo. Tutto nasce da una punizione per i locali. La palla in qualche modo giunge dalle parti di Ndiaye che esita nell'intervento. Così Marzano può condurre con autorevolezza un contropiede spinto in rete dal baby Augustus Carbò. La punta della Sierra Leone confeziona così il suo quinto sigillo nelle ultime cinque gare. Sono numeri da capogiro. La vittoria Campobassana è in ghiaccio. Ci prova ancora al 93esimo Salim Ribeiro, deviazione maligna di Balistreri. Ma c'è pure quella del portiere di Casa Cannella. Finisce con la festa fra squadra e tifosi e con la riprova dell'ottimo stato di forma del Campobasso. La rincorsa per il quinto posto può giustamente continuare. Per Dede 4-2 che cosa pagate? Dove sono le ragioni di questo K.O.? Gli episodi che nel calcio fanno sempre la differenza. Oggi ovviamente sono stati a nostro sfavore perché la prestazione c'è stata e è stata anche una grande prestazione contro una squadra forte. Purtroppo oggi alcuni episodi sono venuti a sfavore e raccontare un 4-2 così è un po' faticoso. Però ci sta, si riparte dalla prestazione, assolutamente ottima e prepariamo bene la partita di domenica prossima. Si riferisce ai 10 minuti dal 27esimo al 39esimo del secondo tempo nei quali avete preso tre gol? Sì, l'ultimo alla fine del 90esimo eravamo la forza dell'esperazione, quindi un errore di un ragazzo in mezzo al campo. Lascia il tempo che trova. Purtroppo, ripeto, il terzo gol, quello su pallo inattiva, ci ha un po' tagliato le gambe perché abbiamo fatto uno sforzo enorme per ribaltare la partita. E da lì ovviamente un po' abbiamo perso le distanze, ci siamo un po' disuniti. E quei 10 minuti ovviamente abbiamo cercato di rimetterla in piedi ma era a quel punto veramente improbabile. Ma oggi ci sono veramente tante buone notizie oltre all'aspetto tecnico, c'è quello là psicologico, mentale, perché oggi veramente sono accadute cose che potevano veramente ammazzarci da un punto di vista sportivo. Beccare i rigori all'ultimo secondo del primo tempo quando avresti meritato di terminarlo abbondantemente in vantaggio. Andare sotto 2 a 1, veramente questa squadra ha tirato fuori una grinta e una voglia di lottare fino all'ultimo che fino ad ora non è che l'avevamo visto sempre. Sì, avevamo visto tanta volontà però in maniera così importante, in maniera così roboante, l'abbiamo visto oggi e sono stati veramente bravi.